Ciao ragazzi, oggi parliamo della valenza dei verbi, sia nella grammatica italiana che nel latino. Cominciamo! Cominciamo parlando della grammatica valenziale innanzitutto nella lingua italiana. All'interno di una frase il verbo ha la capacità di stringere legami con parole o gruppi di parole che gli conferiscono senso compiuto o ne completano il significato. Tale capacità è stata denominata valenza. Gli elementi linguistici, le parole o i sintagmi di cui il verbo ha bisogno sono detti argomenti. In generale un verbo può avere da zero a quattro valenze e il medesimo verbo può avere valenze diverse a seconda del significato che assume nel contesto. Consideriamo la frase oggi piove. Il verbo piovere è in grado di trasmettere l'informazione da solo, senza ricorrere a nessun argomento, nemmeno il soggetto, dato che è impersonale. Si tratta di un verbo avalente o avvalenza zero e la frase minima, cioè la porzione più piccola di testo dotata di senso compiuto, è a zero argomenti. Facciamo un altro esempio. Elena ride. Il verbo ridere per avere senso compiuto richiede un solo argomento, chi ride, cioè il soggetto Elena. Diremo che ridere è un verbo monovalente, ha una valenza, e che la frase minima è ha un argomento. Nella frase Gianluca mangia un gelato, il verbo mangiare ci pone due domande. Chi mangia? E che cosa mangia? E si lega quindi a due elementi, Gianluca, il soggetto, e un gelato, il complemento oggetto. Diremo che mangiare è un verbo bivalente e che la frase minima è ha due argomenti, soggetto e complemento oggetto. Nel caso in cui il verbo sia intransitivo, come ad esempio andare, il secondo argomento sarà costituito da un complemento indiretto. Ad esempio, Carla va a scuola. Risponde quindi alle domande chi e dove. Nella frase Antonio offre cioccolatini agli amici, il verbo offrire ci pone tre domande. Chi offre? Che cosa offre? E a chi offre? E si lega quindi a tre elementi. Antonio il soggetto, cioccolatini il complemento oggetto, e agli amici il complemento di termine. Diremo allora che offrire è un verbo trivalente e che la frase minima richiede tre argomenti. Nella frase Anna accompagna la mamma da casa alla stazione, il verbo pone quattro domande. Chi accompagna? Chi è accompagnato? Da dove parte? E dove arriva lo spostamento? Il verbo accompagnare, che ha bisogno di quattro argomenti, si definisce tetravalente. Quando ci troviamo davanti a una frase in latino, esplicitare le domande poste dal verbo, ovvero le sue valenze, risulterà di grande aiuto per comprendere la struttura della proposizione. Una volta individuate tali domande, non dovremmo far altro che verificare se nella frase compaiono i termini latini, cioè gli argomenti, che le soddisfano. Un verbo avalente o avvalenza zero farà meno di un soggetto e dunque nella frase non dovremo cercare un nominativo. Un verbo monovalente dovrà legarsi necessariamente a un soggetto, che, se non è sottinteso, sarà innominativo. Un verbo bivalente sarà legato al soggetto, in nominativo, e spesso a un complemento oggetto, in accusativo. Un verbo trivalente avrà tre legami possibili, un soggetto, in nominativo, un complemento oggetto, in accusativo, e un complemento indiretto, ovviamente nel caso richiesto. Un verbo rivalente avrà tre legami. Un verbo rivalente avrà tre defensi. Un verbo rivalente avrà tre legami.